benvenuti alla seconda parte in questa seconda parte parleremo sempre della membrana dello spettrum ma questa volta dello spettrum 48 16k tastiera in gomma quindi iniziamo come ho già detto per la prima parte la tastiera dello spettrum è una tastiera a membrana cioè non ha sistemi a contatto meccanici non è neanche simile a quella che era del suo antagonista cioè del Commodore 64 in questa versione che vedete la tastiera è già stata sostituita quindi sarà un pochino più semplice pervi vedere i passi cosa c'è da fare attenzione in queste versioni? in queste versioni, cioè nelle versioni tastiera a gomma ovviamente c'è da togliere questa parte metallica in alcuni spettrum, soprattutto quelli della prima produzione questa non è incollata come nelle successive ma ci sono dei fermi che passano da una parte all'altra e quindi una volta smontato basterà girare questi fermi e la parte metallica viene via però la maggioranza degli spettrum hanno una colla una colla che è qui, un nastro biadesivo che è qui e un nastro biadesivo che è sui lati alcune volte raramente anche nella parte in alto quindi ci servirà per poter fare questa operazione o questi pezzettini di plastica che sono di solito utilizzati per aprire i cellulari le parti, diciamo, per aprire le plastiche che si trovano tranquillamente in commercio oppure potete anche prendervi la nostra solita ex carta di credito ex carta del Bancomat e la utilizzeremo alla stessa maniera ora vi spiegherò come vi assicuro non andremo a utilizzare oggetti di questo tipo né cacciaviti né faremo troppa forza servirà un phon per riscaldare la parte questa parte e le due parti laterali per poter fare in modo che la colla si stacchi di solito, se la tastiera non è già stata sostituita se non è stato messo a attack e quant'altro è abbastanza semplice toglierla va bene, proseguiamo per smontare lo spettrum 48 scusate per smontare lo spettrum 48 è necessario il solito cacciavita stella tutte e 5 le viti 1, 2, 3, 4 e 5 a volte su degli spettrum 48 non troverete queste due perché queste due viti venivano tolte in quanto se la persona aveva un ZX interface 1 queste due viti non servivano più dovevano essere tolte e nella parte posteriore dell'interface 1 c'erano delle viti più lunghe che andavano anche a impanare nello spettrum in modo tale che l'interface 1 e lo spettrum diventavano un unico corpo così non era più possibile smontarlo, toglierlo o comunque rovinarlo quindi comunque in questo spettrum li abbiamo tutte le nostre viti andiamo a smontarle una due in teoria sono tutte uguali ma questa qui secondo me non è la sua originale tre quattro e cinque rispetto a un 48 tasti in gomma li troverete diciamo di due versioni di base quella come questa tastiera celeste e quella tastiera grigia se avete una tastiera grigia avete sicuramente una revisione 1 quasi sicuramente pochissime revisioni 2 sono state vendute con la tastiera di colore grigio quasi punte e comunque tutte in Inghilterra anche la versione 1 quasi tutte vendute in Inghilterra se non tutte vendute in Inghilterra anche se io ne ho una con la tastiera grigia però ecco sono rarissime sono rarissime sia in Europa sia qui in Italia sia nel resto d'Europa quindi se avete una di quelle e magari avete anche lo spettrum come questo splendidamente tenuto io sconsiglierei di provare a togliere la parte metallica perché è rovinata è vero le potete ricomprare questo fetch plate cioè questa parte in metallo però insomma avere la sua originale è sempre un'altra cosa bene come nella versione Spectrum Plus dobbiamo fare attenzione E2 Flat benissimo solito sistema qui però dobbiamo farlo per forza con una mano sola 1 E2 e via come si diceva nella versione Plus in questo punto e in questo punto di solito venivano messi due diciamo feltrini per fare in modo che il Flat non toccasse la parte che si surriscardava come potete vedere si rovinavano col tempo potete anche rimetterle io vi continuo a consigliare di non utilizzare i loro alimentatori originali ma utilizzare un alimentatore di quelli stabilizzati cioè in modo tale che qui ci siano due volte come potete vedere questo spectrum è già stato riparato diverse volte è stata sostituita questa ram è stato modificato come veniva fatto spesso sulla versione 3 infatti questa è una versione 3 della motherboard tolto questo condensatore insomma modificato la parte di alimentazione è aggiunto addirittura la resistenza per avere una migliore sintonia se non mi ricordo male anzi che mi sbagli non mi sembra un'altra posizione ma magari questa è un'altra modifica comunque vabbè c'è anche una resistenza qui è stata fatta anche già la modifica del del composito beh questo è uno spectrum abbastanza standard benissimo proseguiamo allora facciamo finta che il nostro threadplate che non venga su così allora cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere il phon e scaldare questa parte abbastanza non troppo poi prendiamo il nostro pezzettino di plastica e lo passiamo sotto ora se non avete questo potete prendere anche questa la cartina e cercare di scalzarlo piano piano ok dovete farlo anche nella parte frontale sempre scaldare e sollevare scaldare e sollevare è un lavoro lunghissimo ma se volete questa parte in metallo in condizioni ottimali cioè se la volete togliere così perfetta e non piegata e sciupata dovete fare una grande grande attenzione ed ecco qua come vi dicevo il nostro biadesivo ci sono delle versioni come dicevo che invece di avere il nostro biadesivo qui mi sembrano tre punti qui tre punti qui tre qui e tre sopra cioè praticamente guardiamo se questo spettro non ce l'ha no non ce l'ha comunque in questi punti qui fuoriescano dei pezzettini di ferro che basta semplicemente girare piegare e premere in su e la parte metallica viene via la maggioranza sono fatte come queste bene come nella versione plus ho ratolto la parte metallica abbiamo la parte di gomma nella parte di gomma ovviamente il plus ha una parte sotto di gomma qui invece proprio tutta la tastiera che ha in gomma dobbiamo fare attenzione che non sia rovinato comunque questa è la gomma la potete lavare in acqua magari con sapone neutro fate attenzione non sottofinare i tasti via la vernice bene togliamo quindi la nostra tastiera in gomma abbiamo tolto con grande cavotella la parte metallica bene a questo punto siamo liberi di poter sollevare la nostra membrana abbiamo già detto che questa è una membrana già di modello nuovo eccola qua che cos'è la membrana come ho già spiegato nell'altro video praticamente sono due fogli di plastica anche se in realtà sono tre perché ce n'è uno sotto uno nel mezzo dove manca delle piccole piazzole proprio in corrispondenza dei tasti e una parte sopra nella parte sopra e nella parte sotto ci sono i contatti quando il pulsante va a premere in questo punto i due contatti appunto fanno contatto e quindi il sistema dice al computer guarda ho premuto questo pulsante di solito le membrane si rompono qui e qui questa è una membrana di modello nuovo è già più solida sopporta meglio il calore eccetera avrà montare una membrana di questo tipo darà al nostro spettrum degli anni di vita almeno sul livello tastiera ora come potete vedere il spettrum sotto non ha praticamente nulla quindi potete andare a togliere qui è stato utilizzato anche dell'attac mi sa se andate a togliere tutta la colla cercando di potete grattare con un po' di un pezzetto di plastica cercate di eliminare più colla possibile se si è stato usato l'attac senz'altro qual è il problema dell'attac il problema dell'attac è che è una colla molto forte quanto fragile quindi è forte perché tiene il contatto in maniera perfetta è fragile perché se io tiro su la colla si spacca si rompe proprio e diventa ancora più fragile quando si scalda però vi sconsiglio di metterci l'attac riprendete del nastro biadesivo lo mettete qui e qua dopodiché non fate altro che rimetterci sopra la parte di metallo ovviamente privata di questo nastro e il problema è risolto e rimontiamo la nostra tastiera prendiamo la nostra nuova membrana qui ci sono due feritoie eccole e come vedete ci sono le guide qui molte di più rispetto alla versione plus ce ne è veramente tantissime è impossibile sbagliare a montare la membrana non è possibile montarla ai contrari è veramente difficile comunque nel presente la parte larga sta una volta girato la parte stretta sulla destra la parte larga sulla sinistra quindi la parte larga in questo momento girata così quella qui sulla parte destra sinistra la parte stretta vedete è abbastanza semplice non potete sbagliarvi se no fate anche confronto con la contattiera bene rimettiamo la membrana la la tastiera in gomma ora la tastiera in gomma dovete fare un po' d'attenzione perché ovviamente deve essere incastrata per bene cioè va riposizionata per bene i punti di riferimento di sopra cioè di sotto devono essere i medesimi anche per la vostra tastiera quindi come vedete che sto facendo andate a premere tra i tasti in modo tale la tastiera torni pari altrimenti quando rimettete la parte metallica vi darà fastidio in qualche punto vedete qui esce quelle parti in plastica che sono sotto bene rimettiamo il nostro biadesivo rimettiamo la parte in metallo a questo punto non si fa altro che fargli fare una buona pressione e la nostra tastiera ritorna penso che nuova ok adesso dobbiamo rimontare diciamo i flat nei punti come la tastiera quella del plus come dicevo anche quella del 48 ha lo stesso difetto cioè di solito si rovina in questi punti qui cioè molto vicino a questi contatti a volte è sufficiente tagliare un pezzettino molto basso e reinserire la diciamo la 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 fettuccina la membrana al suo posto però come ho detto per il plus vi consiglio di cambiarla così una volta cambiata non ci pensate più per l'inserimento dovete fare molta molta attenzione come vedete rimane da una parte poi dall'altra poi ando un po' a destra un po' a sinistra ma a un certo punto arriva in fondo lo sentite richiudete il vostro spettro ecco qua e rimettiamo le viti una tastiera di questo tipo darà una lunga vita al vostro spettro mettiamo le viti per chi ha fatto la domanda diverse volte perché lo spectrum non ha tutte le periferiche che aveva e che possiede il Comod 64 va detto che lo spectrum è una macchina molto economica era venduta a prezzi molto bassi c'era un basic migliore c'erano diverse cose migliori ovviamente peccava in altre come i colori che aveva il crash color come non lo so per esempio la porta joystick la porta joystick in realtà non ce l'ha ha bisogno di un'interfaccia che si va a inserire nella parte posteriore dello spectrum cioè nell'unica porta che c'è cioè così ok a questo punto abbiamo una porta questa è una chemistone ora lo spectrum è come tutte le macchine non va inserito niente a caldo e non va disinserito niente a caldo cosa vuol dire una volta che è alimentato questa interfaccia non va più mossa se io intendo toglierla mentre lo spectrum è alimentata sicuramente lo spectrum si brucia è matematico quindi le interfacce vanno montate prima di accendere inserire lo spectrum non aveva neanche un interruttore quindi si inserisce lo spinotto e lo spectrum si avvia con la sua interfaccia questo vale per tutta l'interfaccia non solo per la tastiera vale anche per i sistemi nuovi come la la divide cioè si inserisce prima prima e accende lo spectrum non dopo se lo fate dopo lo spectrum sicuramente smette di funzionare e ha bisogno di una riparazione questo spectrum 48 tasti in gomma il plus il 128 tutti gli spectrum anche al comore 64 se inseriamo una cartuccia da acceso lo bruciamo bene come dicevo anche nella versione nel video nella prima parte di questo video questi consigli sono molto banali ora qui un pochino più complesso in quanto dovete fare molta attenzione scaldare muovere scaldare muovere scaldare muovere fino a che non avete con tanta pazienza rimosso tutta la colla che è su questa parte qui pena piegare svernisciare la parte metallica quindi prima di mettere in mano uno spectrum 48 in condizioni splendide come questo se non sapete cosa fate è meglio non farlo oppure farlo fare da qualcun altro vendano questa parte metallica l'ho vista in vendita mi sembra sulle 35 euro però non è sempre disponibile se avete uno spectrum ripeto con la tastiera invece che blu ce l'avete grigia avete una macchina molto rara fra le mani direi rarissima e quindi se la tastiera non funziona non c'è problemi mettete da parte lo spectrum perché quello spectrum lì non lo trovate più è difficile trovarlo e quindi se rovinare la parte in metallo è un vero vero peccato va bene comunque si diceva che di fare molta attenzione questi video sono soltanto per informazione non sono delle non servono per fare in modo che chiunque vede un video è diventato automaticamente un riparatore sono video semplici però informatevi leggete consultate confrontate i miei video con altre informazioni non è sempre una io cerco di dare le informazioni più precise possibile magari mi posso sbagliare ora in questo caso è stata difficile ma posso sempre sbagliare anch'io quindi prendete le vostre informazioni fatevi la vostra la vostra coltura in in questo tipologia di riparazioni e soprattutto non date la colpa a me se fate un errore nel smontare o rimontare un oggetto bene io sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi domanda e chiarimento io come sempre ci credo di rispondervi con il mio tempo che ho non è ovviamente completamente a disposizione dei videogiochi o degli on computer comunque cercherò di dare le risposte alle vostre domande e qui abbiamo fatto una riparazione molto semplice molto veloce veloce in questo caso veloce perché la parte metallica viene via facile comunque semplice sicuramente almeno concettualmente spero che questo video vi sia piaciuto come tutti gli altri e vi saluto al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.